Siamo in collegamento con Marco Maggioni, deputato della Lega e presidente dell'iniziativa centro-europea per parlare della questione relativa ad Orban. Come sapete il voto dell'Assemblea nazionale di Budapest ha scatenato un putiferio politico in Italia sui pieni poteri assunti dal governo ungherese guidato da Orban. Molti addirittura sono arrivati anche a chiedere l'espressione dell'Ungheria dall'Unione europea. Allora, onorevole Maggioni, lei conosce molto bene le questioni relative alle tematiche dei paesi che fanno parte del centro-europea e quindi anche dell'Ungheria. Voglio sapere se lei è rimasto sorpreso da questa polemica e che cosa può dire del clima acceso che si è venuto a creare in Italia e soprattutto dal fatto che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno puntato l'indice contro Orban. Credo che nella fase in cui ci troviamo, e lo dico direttamente dalla Lombardia, chi si occupa di Ungheria ha del buon tempo da perdere. Noi stiamo vivendo un'emergenza nazionale senza precedenti e quindi io credo che le energie, il tempo che ogni parlamentare o esponente del governo debba utilizzare debba essere proprio per cercare di uscire il prima possibile e nel migliore dei modi possibili da questa emergenza che è sanitaria ma che è anche e soprattutto economica in un'ottica futura. E quindi pensare all'Ungheria mi sembra qualcosa che dovrebbe essere lasciato un po' da parte. Oggi abbiamo ben altri problemi e anche l'atteggiamento di alcuni esponenti della Commissione europea francamente non l'ho capito. Prima si risolvano le grandi questioni europee che sono come uscire da questa crisi finanziaria che si prefigura o addirittura è già in atto e poi si può andare a valutare se un provvedimento che peraltro è stato legittimamente assunto da uno Stato membro come l'Ungheria è un provvedimento eccessivo oppure se è un provvedimento che data la natura e data la situazione risulta tutto sommato tollerabile. Faccio notare che Orban non ha ricevuto questi poteri schierando i carri armati in piazza. È una decisione che ha preso legittimamente il Parlamento ungherese. Poi da parlamentare posso dire che quando il potere passa dal Parlamento al Governo in via totale ed esclusiva è chiaro che non mi metto a festeggiare perché credo che il Parlamento come noi abbiamo rivendicato che debba essere centrale nell'attività politica istituzionale del nostro Paese io aspigo che questo avvenga in tutti gli Stati dell'Europa però credo che in questo momento l'emergenza numero uno è l'emergenza sanitaria l'emergenza economica è quella che viene appena dopo e quindi pensare all'Ungheria è qualcosa che secondo me distrae da quelle che sono le nostre iniziative che dovremmo assumere. Lei con la sua esperienza da Presidente dell'Istitiva Centro Europea ha avuto l'impressione che Fidesz fosse un partito che agisse in spregio dei valori democratici e dello Stato di diritto e ritiene che il suo scopo è quello di minare la democrazia ungherese oppure ritiene che questo sia un luogo comune che si è creato in Italia visto che tra l'altro Orban è anche un esponente del Partito Popolare Europeo? Io ho sempre lavorato e lavoro tuttora benissimo con i colleghi ungheresi dell'iniziativa Centro Europea abbiamo ottimi rapporti con i parlamentari che fanno parte dell'Assemblea dell'iniziativa Centro Europea ho ottimi rapporti anche con l'ambasciata a Roma dell'Ungheria per cui lavorandoci insieme, conoscendoli e condividendo quanto è stato fatto in questi ultimi anni ricordiamoci che soltanto prima dell'arrivo di Orban l'Ungheria era uno Stato in grandissima difficoltà sociale e in grandissima difficoltà economica i risultati ci dicono che con la cura Orban degli ultimi anni l'Ungheria è diventato uno dei paesi economicamente più forti in questa Unione Europea per cui io devo dire che sul fronte dell'Unione Europea, sul fronte dell'iniziativa Centro Europea non mi è sembrato di lavorare, sono certo che non sto lavorando con pericolosi sediziosi che vogliono togliere la democrazia in Europa in questa fase è chiaro che ogni Stato risponde un po' come meglio crede Orban ha deciso di rispondere in questo modo finiamo di affrontare nel migliore dei modi questa emergenza e poi potremo interrogarci se questa misura risulta eccessiva oppure se è una misura che nel contesto ungherese è necessaria per affrontare con dei risultati tangibili e concreti e nel migliore quindi dei modi l'emergenza coronavirus Visto che lei è anche membro della Commissione Politica dell'Unione Europea le volevo chiedere se lei pensa che questo scossone, questa polemica che c'è stata su Orban in qualche modo possa creare un clima di maggior dialogo all'interno dell'Unione Europea in vista dell'Eurogruppo del 7 aprile o ritiene che le cose non possono avere nessun tipo di legame visto che è aperta questa partita sugli Eurobond e sui Coronabond? Ma non credo che incida più di tanto non credo che incida più di tanto per due motivi il primo è che l'Ungheria come sappiamo non è tra gli Stati che utilizzano l'Euro come valuta e questo significa che già nella valutazione macroeconomica che viene fatta sugli strumenti da utilizzare per riuscire a dare risposte alle imprese italiane ed europee ecco il discorso Ungheria non rientra quindi nello schema della BCE l'altro aspetto è che mi pare di capire che i leader europei stanno affrontando questa emergenza con gli strumenti classici mi verrebbe da dire gli strumenti vecchi ma mi limito a dire gli strumenti classici qui siamo di fronte ad una situazione inedita per la sua gravità e quindi situazioni inedite necessariamente devono avere cure inedite perché altrimenti non se ne esce non vorrei che nel momento in cui l'Unione Europea che è un po' all'ultimo giro da questa emergenza io penso che l'Unione Europea o ne esce bene o ne esce con le ossa rotte e quindi a quel punto raccoglieremo quel che rimane i cocci che rimangono di questa istituzione non penso che se ne esca che l'Unione Europea ne possa uscire in modo neutro o ne esce bene o ne esce davvero con le ossa rotte l'occasione è viotta per l'Unione Europea deve dimostrare di avere delle istituzioni che capiscono innanzitutto la gravità del momento delle istituzioni che sono in grado di mettere sul piatto risorse sufficienti ad affrontare quella che è l'emergenza economica e deve avere istituzioni in grado di lavorare a stretto fianco con la Banca Centrale Europea affinché come avviene in tutte le altre potenze mondiali la parte, l'istituzione politica e fiscale lavora e si coordina con l'aspetto monetario con l'aspetto finanziario se BCE e Commissione recitano ruoli differenti o addirittura in contrasto questa Unione Europea non solo non darà strumenti tangibili per attutire quelli che sono gli effetti di questa crisi economica ma addirittura rischia davvero di scomparire Un ultimo aspetto tra i più duri nei confronti di Orban e di chi lo ha difeso tra questi ci sono Salvini e Lameloni c'è stato il Movimento 5 Stelle che ha puntato l'indice contro Salvini che lo ha difeso Lameloni che l'hanno difeso come avete trovato questi attacchi del Movimento 5 Stelle che insegnano la democrazia alla Lega e a Fratelli d'Italia? Noi non abbiamo bisogno di lezioni che ci arrivano dal Movimento 5 Stelle in fatto di democrazia perché se fossero così democratici allora evidentemente a settembre saremmo andati al voto dando un governo di diretta emanazione della volontà popolare quindi le elezioni dai 5 Stelle le rimando sonoramente al mittente detto ciò ripeto noi in questa fase siamo impegnati in altro non capisco come si possa perdere tempo a commentare Orban cosa fanno in Ungheria è chiaro che se finita questa emergenza allora Orban tenesse ancora i pieni poteri che gli sono stati conferiti proprio per combattere il coronavirus e allora in assenza di un'emergenza l'esclusione del Parlamento è chiaro che aprirebbe tutta una serie di riflessioni sull'opportunità che si mantenga questo status però è qualcosa su cui si dovrà ragionare dopo oggi noi abbiamo bisogno di essere al fianco delle regioni che stanno affrontando in un modo egregio l'emergenza sanitaria dobbiamo dare risposte a quelle aziende che rischiano di non riaprire dopo il lockdown abbiamo bisogno di dare le risposte ai cittadini che hanno bisogno penso ai commercianti che non stanno lavorando nei propri negozi quindi hanno bisogno di un sostegno da parte dello Stato per me questo è l'importante per me questa è l'emergenza è questo che affronto ogni giorno con le telefonate che mi arrivano da sindaci, da piccoli imprenditori da commercianti, da cittadini nessuno mi chiama per chiedermi cosa ne penso di Orban questo è un problema che tocca forse la politica a Roma ma dimostra ancora come gli esponenti del governo della maggioranza sono scollegati da quelle che sono le esigenze reali e concrete dei cittadini Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità ringrazio l'onorevole Marco Maggioni della Commissione delle Politiche dell'Unione Europea Presidente dell'iniziativa Centro-Europea naturalmente la saluto mi auguro di vederla al più presto a Montecitorio e che questo incubo finisca per tutti soprattutto per la Lombardia che ha pagato un prezzo incredibile a quello che è accaduto grazie ancora onorevole grazie a voi